il libro del ministro degli esteri quando trump mi chiese sei con o contro giuseppi la scena è alla casa bianca washington ottobre 2019 voi state dalla parte di giuseppi conte o siete contro di lui chiese in arcando le sopracciglia tratteni un sorriso realizzai che non aveva la minima idea di chi avesse davanti quando lo invitai a considerare la qualità del nostro impegno nelle missioni nato mi rispose con sarcasmo questi erano discorsi per obama per me contano solo i dollari chi parla è donald trump all'epoca presidente degli usa davanti a lui luigi di maio con loro c'è il capo dello stato sergio mattarella in visita ufficiale accompagnato dal ministro degli esteri scorci di dietro le quinte che si intervallano a riflessioni personali sulla vita e la politica uno spaccato che racconta la stagione dei 5 stelle vista da una prospettiva inedita e privilegiata è questo anzitutto il libro autobiografico di luigi di maio un amore chiamato politica edizioni pm in libreria da domani ma non solo di maio traccia una parabola del suo percorso politico partendo dall'ingresso in parlamento svelando aneddoti finora rimasti sconosciuti e spiegando l'evoluzione dell m5s dal suo punto di vista e nel percorso si fa largo anche il lato personale umano dell'uomo politico dal rapporto conflittuale con il padre con cui c'è una lunga forse eterna ed estenuante competizione agli anni del liceo con i due professori suoi primi mentori al rapporto con la fidanzata virginia saba che lo sostiene lo incoraggia nelle scelte anche sul libro è stata lei esortarmi alla stima per chi fa parte o ha fatto parte del suo staff da pietro dettori ad augusto rubei che citano i ringraziamenti a peppe marici solo per dirne alcuni a Grazie per la visione!